La cerimonia di inaugurazione della chiesa di San Giuseppe a Rocella Ionica ha rappresentato un momento significativo segnando il culmine di un meticoloso processo di restauro che ha coinvolto non solo la struttura stessa dell'edificio sacro ma anche l'ambiente circostante. La chiesa, originariamente eretta nei primi anni del 1600, è inizialmente dedicata alla concezione della Santa Vergine come testimoniato da una lapide commissionata dal principe Fabrizio Caraffa nel 1627 ha svolto nel corso dei secoli diversi ruoli, tra cui quello di sepolcreto, come indicato dalle lapidi tombali ancora presenti al suo interno. Negli anni la chiesa stessa ha subito significativi interventi di consolidamento e restauro i quali se da un lato hanno preservato la struttura dall'usura del tempo dall'altro hanno alterato in parte la sua architettura originaria trasformandola per adattarla alle esigenze contemporanee. A fianco alla chiesa si erge il convento dei frati minori riformati francescani costruito anch'esso nei primi anni del 1600 sotto la supervisione della principessa Livia Spinelli tuttavia nel 1733 a causa di un terremoto devastante l'edificio subì gravi danni e crolli alterando la sua struttura e richiedendo successivi interventi di ricostruzione e restauro. L'inaugurazione della chiesa di San Giuseppe non solo rappresenta un momento di rinascita per l'edificio sacro e il convento adiacente ma anche un'occasione per riflettere sulla storia e sull'importanza culturale e religiosa di tali luoghi nel contesto ovviamente della comunità locale e oltre.